Un lungo percorso che ha avuto il suo epilogo migliore nella finale dei play-off, dove la stefanese Volley ha sovvertito ogni pronostico, conquistando meritatamente il ritorno nel campionato nazionale di B2 femminile di Volley, battendo nettamente i messinesi della mando Santa Teresa di Riva. Il sestetto di Lucio Tomasella ha meglio interpretato questa finalissima e nei passaggi cruciali della partita sono stati determinanti maggiore concentrazione e la fame di vittoria che hanno avuto le stefanese per portare a casa la vittoria. Durante la regular season, sia la gara di andata da noi, vinta 3-1, sia la gara giocata da loro, persa 3-0, ci avevano dato l'impressione di essere una squadra decisamente temibile. Poi hanno affrontato molto bene anche i play-off, però ieri, sinceramente, tra un pizzico di demerito loro e soprattutto tanto merito nostro per non averle messe mai nella condizione di poter esprimere il loro gioco, la partita è stata quasi tutta in discesa. Ripetisco che sono molto felice di aver vinto in questo modo. Io non sono nella schiera di ti piace vincere facile. Preferisco lottare e vincere in questo modo. Abbiamo avuto qualche momento di appannamento, abbiamo avuto qualche calo fisiologico, come è giusto che sia in una stagione così lunga. Dedico questo successo sicuramente a tutte le 11 ragazze che mi hanno supportato e sopportato soprattutto per questo lungo periodo. Dedico questo successo alla società che dopo essere retrocessa lo scorso anno ha deciso di provare a puntare subito al ritorno alla serie nazionale di B2. Grazie a tutti.